La Regione ha stanziato altri 5 milioni di euro per realizzare i primi interventi di ripristino dei 34 chilometri di spiagge toscane, il 14% della costa, fortemente danneggiati dalla violentissima ondata di maltempo del 28 e 29 ottobre scorsi e per garantire il recupero economico in tempo per la stagione estiva. Lo ha detto il Presidente della Regione Enrico Rossi a Piombino nel corso dell'incontro con gli amministratori dei comuni colpiti dal maltempo a fine ottobre, presenti l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni e il consigliere regionale Gianni Anselmi. Entro il 10 dicembre sarà predisposto il piano dei lavori di somma urgenza, sostenuti dagli enti pubblici, entro il 20 le misure per il superamento dell'emergenza. Il Governo ci ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale, ha messo un milione e mezzo, ha nominato il Presidente della Regione Toscana, cioè me stesso, commissario per i lavori e adesso abbiamo incontrato i sindaci, siamo d'accordo nel dare una priorità assoluta ai ripristini delle spiagge. L'evento di fine ottobre è stato straordinario e caratterizzato da un fortissimo vento nelle aree interne ed ammareggiate sulla costa con onde alte 6 metri, altezze mai registrate prima, presto altri incontri per stabilire le priorità degli interventi da realizzare.